Benvenuti in questa lezione questo computer che ho predisposto che utilizzeremo durante il corso è un computer vergine, significa che è un computer che ho appena formattato ho installato Windows 10 Pro che non si differenzia poi così tanto dalla versione home quindi più o meno le cose saranno le stesse e ho installato solamente due programmi che sono Open Broadcast Studio che è il programma che sto usando per registrare e VLC Media Player che è un programma che mi serve per vedere le registrazioni è un programma che io vi consiglio moltissimo permette di vedere appunto film, di visualizzare file audio cioè di sentire file audio quindi è un software raccomandato entrambi anche Open Broadcast per registrare sono software gratuiti quindi abbiamo un computer vergine vediamo quali sono le operazioni preliminari da fare la prima cosa da fare quando di solito si acquista un pc sia nel caso di un portatile che ormai è il caso più frequente sia di un computer desktop è la fase di pulizia cioè molto spesso quando acquistate un computer lo trovate pieno di cose cioè applicazioni o file totalmente inutili questi file vanno semplicemente a occupare delle risorse lo vedo ad esempio aprendo anche cliccando qui in basso a destra sul vecchio Start ho Candy Crush Saga Bubble Witch 3 Saga questi sono giochini ho collegamenti Xbox collegamento Minecraft ho tutta una serie di applicazioncine che a mio avviso sono inutili quindi vanno rimosse nel caso di un computer portatile spesso ci sono software inseriti al produttore ad esempio se prendete un HP ci sarà il software dell'HP se prendete un Acer ci sarà quello dell'Acer questi tipi di programmi consiglio di fare una rimozione quindi vedremo adesso come tutelare la propria privacy perché ovviamente l'obiettivo del corso è questo cioè è creare una macchina pulita che tuteli al massimo la privacy la sicurezza e che sia anche veloce al massimo insomma sia la macchina migliore possibile dal punto di vista chiaramente software dal punto di vista hardware è quello che avete acquistato è la macchina che avete davanti l'unico consiglio che posso darvi dal punto di vista hardware e poi non ne parleremo più nel corso è quello di avere un disco allo stato solido un SSD molti portatili ne ho visti veramente tanti negli anni molti portatili hanno un hardware bello cioè nel senso hanno un processore molto buono tanta RAM hanno insomma anche una scheda grafica magari dedicata discreta ma hanno un disco che non è allo stato solido cioè non è un SSD magari hanno montato un disco da un terabyte un hard disk normale a piatti anche se è 7200 giri comunque è lento diventa lento dopo un anno avete un computer lentissimo quindi spesso mi è capitato di risuscitare veramente il computer sostituendo il disco quindi l'unica raccomandazione che posso farvi è di munirvi di un SSD nel caso però non importa noi cercheremo di ottenere il massimo dal nostro computer e soprattutto facendo i passi giusti per poi per la sicurezza navigare in internet quindi la cosa questo computer su cui stiamo lavorando ha attualmente meno di un'ora di vita nel senso che l'ho appena formattato è pronto è nuovo formattato vuol dire che ho cancellato tutti i dati vuol dire che è un computer appunto vergine è diventato un computer vergine la prima cosa da fare è sicuramente oltre a pulizia controllare anche gli aggiornamenti quindi allora andiamo per gradi prima cosa clicco in basso a destra qui clicco su questa su questo quadratino che chiamerò sempre start cliccherò tantissime volte su questo quadratino e qui in questo quadrato come vedete ho l'elenco dei programmi qui ho l'elenco di applicazioni e programmi installati ormai vengono chiamati app fondamentalmente di fatto sono programmi vengono chiamati app anche da windows qui ho invece dei moduli di avvio veloce e qui ho dei altri moduli sempre di avvio veloce sono dei collegamenti fondamentalmente la cosa interessante è che quando io clicco qui in basso a sinistra se io digito qualcosa sulla tastiera ad esempio ciao vedete mi va subito in ricerca mi va in questa barra ora la cosa che io digito è programmi e funzionalità quindi io posso andare o qui installazione applicazioni o app e funzionalità vedete che mi è apparso nella ricerca mi è bastato scrivere programmi non sono dovuto neanche arrivare alla fine se schiaccio su app e funzionalità mi esce una finestra di lato tutto schermo la finestra e qui iniziamo la nostra fase di pulizia allora che cosa non ci serve fondamentalmente io vi consiglio di togliere sempre con criterio ovviamente tutti quelli che sono software inutili o software del produttore quindi nel caso aveste davanti un portatile con installati facciamo finito un HP software l'HP quindi avrete qui non so HP store HP questi potete toglierli tranquillamente nel mio caso questi sono non ci sono perché sono su un computer desktop quindi un computer fisso quello con il case il monitor davanti e quindi non ce le ho però ho tante altre cose da togliere che avete anche voi allora ad esempio hub di feedback non mi interessa dare un feedback a Microsoft come faccio a toglierlo basta clicco su disinstalla e lo tolgo visto è stato abbastanza facile il mio office il mio office non è da confondere con Microsoft Office che non c'è sulla macchina quando mai avete visto Office che viene dato gratis mai io non l'ho quasi mai visto esistono dei casi ma estremamente rari questa è la semplicazione per ottenere Office non ci serve assolutamente non ci serve via la togliamo avete visto che è comparso qualcosa sotto sta comparendo qualcosa questo perché il computer si sta ancora aggiornando poi affrontiamo questa parte che cosa andiamo a togliere il meteo il meteo non mi interessa se voglio lo guardo su internet Microsoft OneDrive oh allora Microsoft OneDrive è un programma fondamentalmente è un utility di Windows che consiente i cloud vedremo noi invece come si può fare tramite altri sistemi a mio avviso migliori di OneDrive che ha dei limiti abbastanza importanti limiti della quantità di file e poi è abbastanza noioso da configurare quindi io sinceramente OneDrive consiglio di non usarlo quindi lo togliamo ovviamente quando usciranno queste finestre controllo utente dovrete dare queste sono finestre molto importanti per la sicurezza dovete stare attenti se cliccate sì o no nel nostro caso sì perché è un'azione è un'azione consapevole è importante sempre che siano eseguite azioni consapevoli sul computer ok andiamo avanti Edge lo teniamo per ora anche se poi lo sostituiremo i solitari non ci interessano personalmente magari però vi interessano questi potete anche tenervi per carità Microsoft Store lo teniamo questi sono i driver della scheda grafica quindi attenti se non sapete che cos'è la cosa davanti se magari io non la elenco nel video o siete in dubbio lasciatela per carità potrebbe essere qualcosa di utile ad esempio questi sono i driver della scheda grafica se li togliamo beh avremo qualche problema poi sul computer Open Broadcast è quello che sto usando per registrare andiamo avanti OneNote OneNote lo possiamo anche togliere non ci serve OneNote Piani dati mobile non ci serve io sono un computer desktop ah non è perfetto Windows ha restituito un errore vabbè lasciamolo grande Windows come sempre Print 3D a meno che abbiate una stampa di 3D o abbiate intenzione di stampare qualcosa in 3D non vi serve richiesta di supporto vabbè non possiamo togliere ah ecco non potete togliere proprio tutto esistono delle tecniche in verità per farlo ma non vengono coperte a questo corso non ci interessa soprattutto sono 16k ci interessa di muoverlo Skype lo togliamo e era sempre uno tieni Skype non era il vero Skype poi il vero Skype parliamo di Skype Sticky Notes niente non possiamo togliere suggerimenti lo togliamo e poi abbiamo diverse applicazioni di Xbox che da qui non possiamo togliere tranne Xbox Live però vedremo come nasconderli notate che non c'è proprio tutto qualcosa peraltro sono ricomparse perché qui si sta aggiornando ancora se vado in basso sinistra ecco abbiamo iniziato la nostra pulizia qualcosa è scomparso qualcosa invece è diventato scuro perché perché il nostro computer si sta ancora aggiornando ho già detto varie volte questa frase si sta aggiornando come faccio a capirlo come faccio a dirlo che si è aggiornato beh allora clicco su start e scrivo update e vedete che mi esce verifica disponibilità aggiornamenti finisco in una una schermata in cui posso vedere gli aggiornamenti se io schiaccio su questo tasto verifica disponibilità aggiornamenti vedo gli aggiornamenti allora questa procedura ce ne sono parecchi che adesso si metterà a scaricare allora un discorso sugli aggiornamenti gli aggiornamenti in un computer sono fondamentali è altamente consigliato anzi diciamo che io lo dico quando faccio i corsi quando parlo di computer dico che è obbligatorio fare gli aggiornamenti cioè gli aggiornamenti non sono solo ottimizzazioni miglioramenti inserimenti di nuove funzionalità nel computer ma sono dal punto di vista della sicurezza delle patch cioè delle pezze che vengono messe alle vulnerabilità del sistema quindi avere un sistema aggiornato vuol dire avere un sistema con meno difetti possibili non sicuro perché sicuro non esiste non esiste la sicurezza pura però il più sicuro possibile ok quindi questa è la cosa più importante ed è anche l'obiettivo del corso è mettervi nelle condizioni di avere un sistema più sicuro possibile riguardo la sicurezza e la vulnerabilità ogni sistema poi è vulnerabile cioè se uno vuole essere cioè craccano persino i sistemi i sistemi della NASA voglio dire cioè craccano hanno cliccato i sistemi del governo si può entrare se uno vuole entrare in un sistema entra se prendi mira uno specifico sistema ma visto che noi siamo tutte persone normali non siamo la NASA non siamo gente così in vista se non veniamo presi di mira direttamente possiamo prendere possiamo stare tranquilli ecco possiamo prendere tutte le precauzioni possibili però per evitare che questo accada uno dei passi è proprio tenere il sistema aggiornato quindi fare costantemente gli aggiornamenti queste opzioni che intanto che lui si aggiorna poi dovrò rinviarla ovviamente alla macchina quello che notate in questo pannello sono tutte queste opzioni laterali poi vedremo di faremo una scorsa su questo come come si arriva in queste finestre in altri in altri modi io adesso ho scritto update però voi già potrete dire ma non posso ricordarmi tutte le parole memoria programmi update come ci arrivo qui con facilità beh allora esiste un sistema basta cliccare sempre in basso in basso sinistra scusate e cliccare su questa rotella questa rotella è impostazioni e vi pone davanti a un menu che è l'insieme di tutte le impostazioni che si possono appunto configurare su windows sono divise per categoria noi ne affronteremo alcune qui da qui notate che ho proprio l'ultima che è aggiornamento e sicurezza quindi qui arrivo a quello alle impostazioni degli aggiornamenti e sicurezza non a caso sono stati messi insieme invece quella delle app quindi programmi le app e la disinstallazione la vedo da qui la app app e funzionalità quindi vedete c'è una regola in informatica diciamo nell'uso domestico poi di pc è che spesso per fare una cosa esistono sempre almeno due strade almeno spesso ce ne sono tre o anche quattro di strade per arrivare al medesimo risultato questo perché così ognuno può scegliersi la sua può scegliersi quella che gli è più congeniale quindi allora adesso aspettiamo faremo un salto temporale cioè nel senso interromperò la registrazione a quando saranno completi tutti gli aggiornamenti e poi andiamo avanti nella nostra fase di pulizia e messa in sicurezza dell'ambiente windows iniziale iniziale orte a quando orte o per a quando a quando è mai piaci a quando una piaci a quando era piaci piaci